Sono qui con Udu in mezzo alla neve di Pisticci qui con la nostra creaturina dentro la sua sacca di canapa questo straordinario strumento suona anche a queste temperature estreme togliamo i guanti perché ovviamente Udu ha bisogno della nostra pelle essendo uno strumento vegano fatto solo di argilla, argilla millenaria dei calanchi la nostra pelle diventa l'elemento perfetto per trasformare la terra in musica Ono Sire Ono 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 Grazie a tutti.